Dimmi una cosa, tu in che anno sei stato dentro? Beh, io sono stato fuori, nel 48, nel 52 adesso. E allora nel 53 stavi dentro? E come no? Eh, anch'io. No, a reggina c'è. Certo, terzo abbraccio. Il braccio figlio. E là c'è stato pure Gloria Patri, te lo ricordo? E come non mi ricordo Gloria Patri? Chinotto. Pure Chinotto conoscevi. Annalisa, pure Chinotto conosceva. Ah, sì? Tu sei Gerardo l'artista. Ah, ce l'hai messo a riconoscermi. Eh, maggio. E beh, come mai non si sente più parlare di te? Tu stavi quasi tutti i giorni sopra i giornali. Eh, come mai? Sì, devo andare a lei. Matrimonio. Castor. Eh, già. Tante grazie, cara. Eh.